Esce per la prima volta in Italia il diario americano di Francis Trollope, Domestic Manners of the Americans. Lo pubblica l'attore dei venti con il titolo Le maniere degli americani. L'attore dei venti è un nuovo marchio che fa parte del gruppo editoriale Tabula Fati. In questi giorni stanno uscendo le prime pubblicazioni, sono quattro romanzi, e il quinto è proprio il diario americano di Francis Trollope. E oggi parliamo di lei. Francis è la madre di Anthony Trollope, uno scrittore mai dimenticato, ancora oggi letto, apprezzato e tradotto, mentre la madre, Francis, è stata dimenticata, non per molto, per fortuna. Era figlia di un vicario, esattamente come Jane Austen. Rappresenta quella borghesia che vive in provincia, non ricchissima, ma colta. Nasce nel 1780 e nonostante nel 1783 l'Ighilterra perde le sue 13 colonie del Nord America, le più redditizie, è pur sempre l'impero più grande della storia dell'uomo. Londra, nel 1850, è la città più grande del mondo, e gli inglesi leggono, leggono a tutti i livelli della società, dall'aristocrazia alla borghesia, fino al popolino, che leggeva i penny novels, storie truculente e sanguinarie. Ma leggevano. Era una donna idealista, faceva sue le cause libertarie dei tanti esuli politici che riparavano a Londra. Nel suo salotto si vedeva anche Ugo Foscolo. Era una donna salutiera, ma colta, oltre agli esuli invita scrittori, intellettuali, parli di uguaglianza delle donne e via di questo passo. Ma la vita matrimoniale è difficile e per tanti motivi, fra cui fondare una comunità per gli schiavi liberati, decide di partire nel 1827 per gli Stati Uniti. Dei suoi anni trascorsi lì, al suo ritorno, pubblica il diario americano. Ebbe un enorme successo, adorata dagli inglesi, molto meno dagli americani. Le maniere degli americani sono uno spaccato dell'America visto dagli occhi acuti della signora inglese, che per modernità, per spirito di osservazione, senza disegnare una buona dose di ironia, ci racconta quello che ancora oggi noi pensiamo di quella nazione. In giorni inclementi come quelli che stiamo vivendo noi, è naturale confrontare le nostre modalità di europei per affrontare l'aggressività del coronavirus con le modalità messe in atto dall'altra parte dell'oceano. Francis Trollope ci mostra il mondo americano come un mondo alla rovescia rispetto alla sua ex madre patria. Chi aveva trovato rifugio nel nuovo mondo, a partire dai padri pellegrini, aveva impostato altre regole, ben diverse da quelle che organizzavano la vita in Europa. Ed è davvero incredibile che le considerazioni di Francis Trollope raccolte durante il suo soggiorno, adeguatamente trasferite alla nostra realtà, siano le stesse che abbiamo noi oggi. Francis, dopo la pubblicazione di Domestic Manners of the Americans, non smise di scrivere fino alla fine della sua lunga vita. All'apice della sua notorietà anticipò le tematiche sociali di Dickens, aiutò suo figlio Anthony a districarsi tra generi letterari e editori, finché lui non raggiunse la fama che dura tuttora, mentre la fama di Francis si spense col tempo. Ma con Le maniere degli americani l'abbiamo ritrovata. Dal settimo capitolo delle maniere degli americani di Francis Trollope. Per la quasi totale mancanza di pascole intorno alla città, uno straniero può trovare difficile capire da dove viene il latte che la rifornisce, anche se presto scoprirà che c'è più di un modo di tenere una mucca. La parte delle famiglie e delle classi povere ne posseggono una, sebbene in apparenza priva di alloggio. Le mucche repubblicane vengono munte alla mattina e alla sera di fronte alla porta di casa, mentre mangiano un gran pastone di mais bollito in acqua. Poi sono lasciate libere di andare a passare il tempo sulle colline o tra i canali di scolo, a loro gradimento. Di solito tornano regolarmente a dare e a ricevere il pasto mattutino e serale, sebbene a noi sia accaduto più di una volta di riavere la nostra brocca vuota, insieme alla triste notizia che la mucca non era tornata a casa ed era ormai troppo tardi per cercarla, oppure che la mongitrice non si era svegliata in tempo e la mucca era arrivata ma poi se n'era andata, stufa di aspettare.